Vengo ora dalla casa Museo Wunderkammer, Camera delle Meraviglie di Paolo Diara, che mi ha dato queste due sue opere. Avrei dovuto inventarmi il tempo per rifletterle e per presentarle, ma le trovo straordinarie. Intanto, chi è Diara? È l'artista più raffinato che Livorno abbia mai espresso. E quindi, in quanto è raffinato, ovviamente antipopolare, è perfettamente a suo agio come icona di riferimento della sub-biennale, perché è assolutamente sub-locale, cioè i Livornesi non lo conoscono affatto in modo di non farsi conoscere da tutti i Livornesi, lo conoscono piccole, medie, elite di cultori dell'arte. Queste due opere sono straordinarie. Come lui così latamente ha fatto intravedere, potrebbero essere delle cartoline mail art, ma lui genialmente le ha infilate dentro cornici spesse e secentesche. Vediamo lui stesso, quello che lui ha espresso come immagine di sé, così stilizzata, divertente, divertita, allo stesso tempo però di grande raffinatezza. Quindi questa complessità e questa auraticità, cioè l'artista lui è d'oro, è coperto dall'aura dell'arte, e così complesso, così antipopolare, in queste due opere si relaziona alla stereotipia delle immagini patinate di convenzione. Qui lo vediamo, si è raffigurato con questi colori fluo, in una vocazione quasi bascattiana, stilizzato con probabilmente, ipotizzo sia un pennarello che si sgrana sulla carta, perché Diara è soprattutto e anche un tecnico straordinario, una tecnica pittorica straordinaria. Chi lo ricorda nelle sue meravigliose tele iperrealiste, ora ne ho vista una, in cui sono presenti tre donne, tre grazie, così attraversate dal tempo, su una spiaggia di ghiaie, dove le ghiaie sono dipinte una ad una, rappresentate nella loro singolarità con un approccio zen meraviglioso. Quindi Diara sarà presente alla sua biennale con queste due opere, non so come saranno riprese, perché ora io parlo nella foga dell'entusiasmo, della concessione che questo maestro così assolutamente snob, nel senso più divertito e divertente del termine, è ovviamente un collettore, un collezionista straordinario, il comune di Livorno fa mostre a Maghiai, perché è proprio quasi l'opposto di Diara, dal punto di vista della relazione col pubblico, supernoto, superconosciuto. Possiamo dire delle opere di Diara che sono quasi un'illustrazione della sua intelligenza, cioè queste opere, proprio perché lui ha questa testa complessa, finiscono per farli da corona decorativa, ecco, questo forse in qualche modo la sua intelligenza è un limite alla sua produzione, troppo critico per estendersi anche verso se stesso popolarmente, sulla città anche attraverso una mostra mosaica. Certo, se ci fosse mai un ipotetico assessore alla cultura colto, non farebbe altro che manifestare, mostrare Diara le sue opere insieme alla sua collezione mischiate, e poi tenendo ovviamente l'opera delle opere, cioè lui stesso, in relazione con il pubblico, ora la dico, è stato anche professore di educazione artistica e le medie, e in relazione con le scuole, a veicolare il suo sterminato sapere e le sue capacità tecniche infinite. Ecco, forse credo si sia astenuto, non so, dall'astrazione, perché ogni singolo sasso dipinto è un'opera astratta, perché poi l'astrazione è popolare, tutti sanno produrre opere astratte, mentre invece il percorso suo è assolutamente irreplicabile, del tutto raffinato e divergente, divergente, si manifesta come un erudito, colto, creativo del Settecento. Quindi queste opere saranno collocate qui all'ingresso, mischiate a quadreria, perché la struttura non curanda, ma coltivanda, è quella di un orto libero, sinergico, quindi troverete questi due splendori a accogliervi all'ingresso della sub-biennale. Devo inquadrare anche la cornice, perché la cornice è in netto contrasto con la leggerezza dell'opera, io questo, diciamo, dialogo schizofrenogeno fra cornice e cartolina, quindi volatile, lo trovo anche questo di grande intelligenza.